Marco Bertocchi, buongiorno. Ciao, buongiorno Roberto e grazie di avermi ospitato a questo incontro pre-elettorale. Ci mancherebbe altro, guarda io pur di fare campagna informativa su tutto quello che è rugby, incontro tutti molto volentieri, anzi è un po' che non dico la frase con la quale aprivo sempre gli incontri, grazie di essere con noi sul canale Libero di Bulldog, canale a disposizione di tutto il mondo del rugby. Quindi oggi grazie a te di essere qui parliamo di elezioni, però prima di parlare di elezioni vedo che sei in una sede molto particolare, tu dietro alle tue spalle vedo un sacco di cravate. Sì, questa è una piccola parte di quelle che sono poi trofei all'interno di questo ufficio, di questo piccolo museo. È la sede del CIR, del Club Italia Amatori Rugby, che mi ha gentilmente offerto Franco Cenobi, tra l'altro mio zio è la persona che mi ha avvicinato al mondo del rugby. È la sede del CIR, il CIR è un club che è legato alla federazione e che ha tutta una serie di attività durante il suo percorso annuale, quindi ha delle premiazioni, ha delle presenze in tornei e quindi porta avanti tutto quello che è stato la vita del movimento rabbistico nazionale, quindi con una presenza sempre molto costante. Mi ricorda molto il Museo del Rugby del mio amico Corrado Matocia. Sì, il Museo del Rugby di Corrado è sicuramente molto più ben fornito e più esteso. Ho avuto il piacere di averla a Prato nel 2012, quando abbiamo fatto una bellissima mostra all'interno di uno spazio storico, dove lui ha portato le sue maglie e noi abbiamo integrato con quello che era tutto il materiale delle società pratesi, ma anche toscani che hanno voluto donare una maglia o un gadget particolare. Quindi è stato, e questo poi è anche un argomento che mi piacerebbe poi affrontare, è stato anche il momento per poi dare spazio a tanti eventi culturali che si sono legati a questa manifestazione. Quindi, insomma, è sicuramente un bel punto il Museo del Rugby di riferimento. Fa bene al movimento. Certo, come tutto quello che parla di rugby. Quindi, senti, ti faccio una breve presentazione. Allora, Marco Bertocchi, 55 anni, professione consulente aziendale. Tu sei però nel mondo del rugby da circa 40 anni. Sì, ho iniziato appunto, come ti dicevo, portato da Franco, da mio zio, nel Re di Prato all'epoca. Quindi ho fatto il percorso, perché si chiamavano Aquilotti, Aquile, per poi dopo arrivare alle squadre di giovanili e poi dopo una breve parentesi tra il militare e lo studio che mi hanno un po' allontanato per qualche anno e successivamente ho ripreso l'attività all'incirca nel 93-94 e per poi dopo non smettere più. Nel 2000, insieme a un gruppo di amici abbiamo costituito i cavalieri in Prato e siamo riusciti a riunire il progetto molto interessante e ambizioso di riunire dopo anni le società pratesi, quindi Gispi Prato, la Re di Olo e appunto la Re di Prato e abbiamo fatto questo poi il percorso che comunque conosciamo, insomma è stato un percorso interessante fino purtroppo a una chiusura che non è anche definitiva, perché comunque in un'altra forma però i cavalieri continuano ad andare avanti con l'Unione Re di Prato Sesto che sta comunque portando avanti un campionato di Serie A con buoni risultati, rivedendo però tante situazioni, quindi dal discorso di questo professionismo che è un po' viziato e quindi sta facendo insomma una buona, diciamo, un buon percorso con delle persone... Ti interrompo, perché professionismo viziato? No, perché all'epoca insomma era stato pompato molto, questi ragazzi si erano... insomma era un professionismo e poi non era... finiva a 35 anni, 36, l'età dell'attività sportiva e quindi dopo uno si doveva rinventare una nuova vita, insomma, come è tuttora, insomma, su tante altre realtà, quindi... e questo credo che anche nel programma, e poi dopo magari ne parleremo anche nel programma di Marzio, è stato individuato come uno dei punti importanti quello del post-attività sportiva. La carriera, certo. Sì, effettivamente è un problema perché con il termine della carriera, se uno non si è costruito precedentemente una possibilità o il piano B, come si suol dire, è probabile che si trovi, diciamo, non proprio bene nel reinserimento della società del mondo comune. Certo, certo. Quindi è importante. È vero che, insomma, si dice che il Rebbi dà competenze trasversali, la squadra, il sacrificio e tutto, però spesso poi gli imprenditori o comunque le aziende vogliono la concretezza. Chiaro, professionalità, certamente. Quindi, niente, poi dopo la mia carriera sportiva è finita, insomma, poi negli anni 2000, verso il 2004. Non ho partecipato ai Cavalieri, non ho giocato nella squadra, diciamo, nella rappresentativa maggiore. Facevo sempre la squadra della Serie C, la squadra regionale, che comunque mi ha portato ad avere grandi contatti con il mondo toscano e sviluppare comunque quello che sono delle competenze, delle esperienze importanti. Nel 2009... Tu però hai fatto tutto, diciamo, all'interno del club, tu hai fatto tutto il tuo percorso fino a diventare anche consigliere all'interno del club. Sì, appunto, sono stato consigliere, fondatore, quindi consigliere del primo gruppo. Sono uscito, penso, da pochissimi anni dal consiglio direttivo. Però nel 2009 sono passato a fare più un lavoro, un percorso più federale, no? Quindi da proprio partendo dal delegato provinciale, perfetto. E dal delegato provinciale ho fatto poi un passetto verso il comitato regionale come consigliere e quindi poi oggi sono qua, insomma, per questa mia... Allora, senti, raccordi un po', perché hai deciso di candidarti come presidente del comitato regionale toscana, CRT? Cosa ti è passato? Ti sei alzato una mattina e hai detto io voglio diventare presidente del comitato regionale. Assolutamente. Faceva parte di una delle mie ambizioni, naturalmente, perché la vita e le esperienze che ho toccato con mano facendo tutto questo percorso nel comitato regionale, mi hanno sicuramente dato una visione di quello che era il panorama rebistico toscano. Quindi sicuramente questa è stata una cosa mia, la possibilità di accedere a un... e portare la mia esperienza. Naturalmente poi ho sostenuto le idee di Marzio, ho sostenuto le idee di quello che doveva essere il rinnovamento e quando appunto Marzio è diventato presidente mi ha coinvolto, mi ha chiesto ufficialmente se è la mia intenzione candidarmi, bene, insomma ho soltanto potuto accettare, ho soltanto potuto accettare con grande onore e con grande responsabilità. Poi ho avuto anche l'appoggio della squadra di Renovation che è sicuramente una squadra, insomma ho sentito veramente l'appoggio di quello che potrebbe essere uno sfogliatoio virtuale che ci ha preso tutti e insomma mi ha dato la forza per veramente andare avanti in questa candidatura. Marzio ha improntato diciamo una squadra di persone di sua fiducia che chiaramente faranno, nel tuo caso se sarai eletto, faranno parte del suo staff diretto. Beh sì, sicuramente. sicuramente il segno della discontinuità è evidente in quello che sta succedendo nei vari... Ma senti, ne approfitto per farti una domanda, no? Ma senti, secondo te, no? Cosa c'era che non andava nella gestione precedente del presidente Gavazzi? Perché secondo te c'era questa... è una provocazione ovviamente, perché secondo te c'era questa esigenza così forte di cambiamento? Mettiamo che io non sappia nulla di rugby, ti dico ma come mai? Gavazzi non lo sopportava più, volevano tutti cambiare. Ma è sicuramente una grossa provocazione, è una grossa provocazione. I risultati erano la prima cosa che balzava all'occhio. La crescita lenta che abbiamo avuto negli ultimi anni, idem, molta confusione, tanta scontentezza da parte dei club, se non per alcune situazioni che potevano essere più o meno positive. Però insomma, non c'era più un'aria positiva, non si respirava più un'aria positiva. E quindi il cambiamento mi sembra più che giusto, insomma. Insomma, dici, i tempi erano maturi per un cambiamento al timone? Sì, i tempi erano maturi, sicuramente, sicuramente. Ok, allora invece adesso tu ci racconterai qual è il tuo programma, cioè quali sono i punti del tuo programma, cosa discordano con la gestione precedente e quali saranno ovviamente i tuoi obiettivi. Ma il mio programma fondamentalmente si basa sulle linee guida che sono quelle della federazione che ha imposto. Quindi i club al centro dell'attività. Quindi andare verso i club e non aspettarli, essere di sostegno, dare delle risposte concrete e immediate, far sentire la vicinanza ai club e questo è sicuramente uno dei primi obiettivi che dobbiamo, messaggi che dobbiamo dare alle società. Naturalmente poi, dopo, bisognerà riorganizzare quello che è proprio l'attività. I nuovi comitati avranno sicuramente più autonomia, più autonomia finanziaria, però questa è una cosa che dovremo vedere come gestirla, questa autonomia. però... Scusami, l'autonomia, ok, però basandosi sempre sulle linee guida del governo maggiore? Sì, certo, certo, naturalmente basandosi... In attesa di aspettare le linee di FIR per poi applicarle al comitato regionale? Comunque il comitato regionale dovrà cambiare proprio un modo di essere in tutti i comitati, naturalmente fermo restando le cose basilari che sono quelli della struttura dei campionati, della struttura dell'organizzazione della propaganda, della gestione degli spazi, dovremo poi portare avanti delle azioni un pochino più mirate, quindi focalizzare sul reddito femminile, piuttosto che il SEVEN integrato, tutti i progetti che dovranno comunque crescere, fermo restando poi che alla base di tutto ci deve essere della formazione, una formazione rivista e rivalutata sotto tutti gli aspetti, perché dovrà essere presa a 360 gradi, quindi non soltanto il tecnico, ma anche i dirigenti e tutte le tipologie dei dirigenti, dal dirigente accompagnatore fino all'educatore che accoglie le mamme e i bambini quando portano i ragazzi al campo, dovremo dare un segnale, le società dovranno dare un segnale di un'organizzazione e di una tranquillità verso le famiglie, con questi step riusciremo poi comunque ad avvicinare sempre più anche persone e nuovi atleti. Ma senti, tu hai... Scusami, finisci pure. No, poi dopo anche un discorso di crescita qualitativa e quantitativa degli atleti e dei club. La Toscana ha delle zone ancora poco battute, dove proprio ancora il Rebbi non esiste. Tipo? E quindi dobbiamo... Tipo la zona della bassa senese confine con Grosseto, tipo la zona di massa che esistono le società, però devono essere presa a mano con dei progetti mirati. La zona che da Firenze sud arriva ad Arezzo. C'è, sì, il Rebbi c'è, c'è il Rebbi Valdarno, una società che sta crescendo adesso, che è nata da pochi anni. Come a Massa c'è una società che sta arrancando a Grosseto, idem... Prego? I Titani si chiamano. No, i Titani sono a Viareggio. Io sto parlando proprio... Scusa, sì, scusa. ...della parte alta della Toscana. Quindi le due estremità hanno bisogno di progetti mirati dove si deve comunque fare un lavoro abbastanza concreto e è un progetto ad hoc. Il centro Toscana che, appunto, ripeto, da Firenze sud fino ad Arezzo c'è una società che sta nascendo e quindi dobbiamo comunque supportarla in una maniera importante. Quindi questa è la crescita che dobbiamo fare. Quindi con alcune società dobbiamo avere dei progetti ad hoc che le fanno crescere. Con altre società, invece, dovremmo mantenerle e cercare di mantenerle e di svilupparle anche lì con altri progetti un pochino più mirati. Quindi, scusa, nel tuo progetto ci sarebbe quello di, come dire, seguire i club in maniera diretta per aiutarli nella ristrutturazione interna? Certo, anche, però, naturalmente, aiutarli per iniziare a fare un percorso. Naturalmente, come dice, dobbiamo dargli poi le capacità e quindi, appunto, il discorso della formazione, dargli le capacità per poi un giorno iniziare a camminare con le proprie gambe e quindi potersi sviluppare. Quindi, in tutto questo, anche in ottica di una riduzione dei consiglieri regionali, un ruolo importante saranno anche i delegati provinciali, che i delegati provinciali ad oggi devono essere i primi a essere formati, perché per il momento sono, te lo dico, da ex delegato provinciale, che ho fatto con anche una vecchia gestione di quando il CONI aveva una funzione diversa. Nelle province c'erano i comitati CONI, ora sono tutte delegazioni, quindi i CONI all'epoca avevano più possibilità di organizzare eventi, di organizzare incontri e i delegati provinciali avevano comunque un ruolo molto più attivo. Da quando il CONI è diventato, i CONI provinciali sono diventati delle delegazioni, i delegati provinciali poi hanno ancora di più perso valore. quindi dovremmo recuperare questi facendogli delle competenze per andare nelle scuole, per andare nell'amministrazione pubblica. Tutto questo programma, cioè tutta questa formazione, come avviene? Perché è una cosa alla quale io tengo particolarmente, la formazione di tutti quanti, dall'allenatore all'accompagnatore, per me la formazione è la base. della formazione ci sono sicuramente le reazioni a dei docenti qualificati e preparati e quindi insomma sicuramente e sicuramente aspetta, scusate ma quindi i progetti? Quindi i progetti per dire uno potrebbe essere quello di creare anche un corso di formazione permanente per i ragazzi che vanno nell'ordine d'età da 20 a 22 anni, un percorso costruito insieme alla scuola dello sport del CONI, insieme anche all'università, sport management, insieme ai licei sportivi e quindi questo potrebbe anche poi dare anche al ragazzo consapevolezza anche in un percorso poi di studi anche diverso, però in questo modo comunque anche farlo sentire più vicino al mondo del suo club, quindi creare, avere, non so, una trentina di ragazzi o quindici, io non lo so, insomma, questo è tutto naturalmente un'idea, una base una base su cui lavorare e poi dopo quindi fare un percorso con queste, creare un discorso con FIR, scuola dello sport del CONI e scuola, insomma. Ho capito, ho capito. Senti, in tutto quello che tu hai detto hai toccato delle tematiche molto interessanti, tra i quali il rugby integrato. Io sono un esponente di rugby integrato perché sono l'ambassador dei Bradi Rapidi, che è una squadra di Roma di affetti da Parkinson e loro si impegnano molto, quindi è una cosa che a me sta molto a cuore, ovviamente. Che cosa hai pensato tu per dare un incentivo al rugby integrato? Allora, io già nel 2010 a Prato ho fondato una squadra che si chiama Invictus con la quale ho fatto un percorso di anni, poi naturalmente ho lasciato per altri impegni, non ho potuto più seguire. Quindi sicuramente il rugby integrato è un progetto che mi sta sicuramente a cuore. Oltre al rugby integrato poi ho contribuito a far partire anche il rugby legato a Special Olympics, che è un rugby leggermente diverso, si gioca a sette quattro persone tutor e tre ragazzi invece che cercano di essere inseriti in questa nuova attività. E in Toscana già ci sono un paio di squadre che hanno già seguito questo percorso di Special Olympics, Piombino e Valdinievole, mentre anche per il rugby integrato c'è la squadra degli Invictus, la squadra a Ponte D'Era, a Bellaria, a Cappuccini e la squadra di Pontassievi. Quindi insomma il rugby integrato è sentito. Io credo che una persona dedicata probabilmente a questo aspetto è perché un motivo anche per cui ho poi lasciato è perché ci vogliono comunque delle competenze particolari insomma non si può ci vuole una persona dedicata e competente molto competente perché insomma non si può affrontare in maniera leggera. Quindi sì quello è insieme al progetto Carceri che è anche quello è un progetto che in Toscana stava andando avanti fino al momento della pandemia e quindi anche quello è il premio quindi il rugby sociale deve essere sicuramente sviluppato e seguito con molta attenzione. Marco senti pensi che sarà molto complesso uscire da questa situazione post pandemia per il movimento in generale cioè secondo te il rugby è proprio messo nel pantano oppure diciamo ci sono delle buone probabilità per poter uscire abbastanza indenni da questa situazione? sicuramente indenni non ne usciremo e la conta dei danni io credo che insomma a breve dovremo iniziare a farla io insomma in questo periodo in cui da quando ho lanciato la mia candidatura ho girato qualche società con i presidenti che naturalmente ha scontrato un minore una minore un minor calo di interesse però ho visto delle società molto vive chi sta occupando prende questo momento per rifare per curare gli aspetti anche logistici chi rimette a posto la clubhouse chi rimette a posto gli spogliatori quindi la voglia l'entusiasmo non manca e credo che questo sia la forza che farà ripartire subito subito tutta l'attività quindi insomma c'è molto movimento e molto molta positività dai ma c'è ottimismo diciamo che l'ottimismo alberga nel cuore del rugby ecco perfetto diciamo di sì benissimo senti e dunque ci saranno le lezioni saranno questo sabato giusto sabato sì verranno fatte domani domani ci saranno le lezioni ci vuoi raccontare in breve come cosa succederà nel senso proprio da punto di vista tecnico dove andate come si svolgono chi ci sarà ma naturalmente le votazioni ci saranno tutte le società con diritto di voto abbiamo cercato di contingentare le persone che dovranno essere presenti faremo l'elezione all'esterno al campo al campo intitolato a Mario Lorigiani a Firenze faremo queste lezioni in questa occasione quindi molto semplicemente poi avranno seguiremo inter delle classiche lezioni sperando con un esito positivo ovviamente va bene senti io con le mie domande ho finito tutto il programma l'ha illustrato però se vuoi aggiungere un qualche cosa io sono a tua disposizione io vorrei vorrei aggiungere un discorso che è importante che anche a te dovrebbe comunque ti prende e starà a cuore che è il discorso della comunicazione assolutamente la comunicazione dovrà essere rivista sì vanno bene il risultato e e far vivere i siti e i post di 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 quello insomma dell'attività corrente dei campionati però dobbiamo anche lanciare dei messaggi che incuriosiscano le persone quindi far conoscere cosa sono cosa è il rugby far conoscere chi sono i personaggi del rugby sia passati e qui mi riallaccio al mondo del circo ovviamente col suo piccolo però qualcosa fa far conoscere chi sono stati i vecchi giocatori creare la comunicazione vista in un modo diverso la comunicazione dovrà servire molto a far ripartire l'attività perché dovranno essere degli spot veramente che che riempiono bravo coinvolgenti ma senti a questo proposito perché come hai detto anticipato tu insomma abbastanza al mio campo tu hai una persona o uno staff di persone che si occuperanno di questo cioè hai già programmato diciamo la tua squadra di governance ma allora io la spada di governance nella mia testa ce l'ho sicuramente non non ritengo ancora insomma di doverla esplicitare comunque sì il gruppo che dovrà seguire la comunicazione nella mia testa c'è insomma quindi potranno anche essere più di una persona perché ripeto dovrà essere essere fatta anche in maniera settoriale no insomma e poi no ma io mi rivolgevo solo alla comunicazione parlavo di quello sì 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 solo alla comunicazione sì però appunto ripeto anche quella dovrà essere fatta anche con con più persone perché purtroppo molte persone molti di questi ragazzi che si avvicinano ragazzi e ragazze naturalmente perché potrebbe essere anche una quota rosa comunque sono tutte persone che lo fanno con in maniera amatoriale in maniera non professionista professionista quindi anche lì quindi dobbiamo dobbiamo inserirli quindi professionale è soltanto a livello economico forse volevi dire forse volevi dire volontaristica sì 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 però il lavoro è sicuramente professionale insomma quello che quindi dei professionisti volontari che lo fanno giusto per amore della causa perfetto perfetto esatto la comunicazione va usa le parole giuste e viene in aiuto e viene in aiuto ti ringrazio per forza oggi la comunicazione è tutto guarda recentemente in questi in questi giorni ho mandato fuori anzi mercoledì ho mandato fuori una puntata sul personal branding con questa persona che Flavia si chiama che dice un esperto del personal branding che insegna come gestire e come utilizzare il personal branding cioè tu che diventi promoter di te stesso è una cosa molto interessante ti invito a vederla e invito tutti quanti ci stanno guardando a vederla ok bene bene senti Marco io ti ringrazio ti faccio i miei auguri per la campagna elettorale anche se oramai praticamente agli sgoccioli ma volevo invitarti a fare due chiacchiere con noi una volta che si sarà chiuso il sipario su questa tornata elettorale così vediamo se sei tu il nuovo presidente ci illustrerai la tua squadra e se altrimenti avrai reso le armi al nemico a virgolette parleremo di qualcos'altro volentieri con piacere bene piacere mio di fare sempre informazione sul rugby poi in questa occasione ci tenevo particolarmente perché diciamo sono i prossimi quattro anni che ci giochiamo cosa importante insomma anche se di già abbiamo bruciato tra un altro sei mesi di attività perché insomma i comitati partono che generalmente partivano nel ritardo a cose normali ora inizieranno con quasi un anno di ritardo quindi dal dal 16 ci sarà da o mi dovrò rimboccare subito le maniche o il mio amico Riccardo dovrà rivoccare le maniche insomma un percorso che ci auguriamo non sia proprio così in salita dai siamo ottimisti siamo ottimisti ti ringrazio e buon rugby a tutti grazie a te a presto ciao 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 ciao